Prego, a lei la parola. Grazie, signor Presidente. Ma questo disegno di legge per la conversione di questo decreto, a mio avviso, sta passando un po' troppo sotto silenzio, perché cosa stiamo approvando qui oggi? Stiamo discutendo per l'approvazione della correzione di un decreto legislativo che è entrato in vigore appena nel febbraio di quest'anno, perché era datato 27 febbraio 2021. Cosa faceva questo decreto? Come tutti i decreti deve essere valutato, studiato dai funzionari, dai dirigenti e deve essere verificato prima della sua entrata in vigore. Qualcuno si deve essere dimenticato, nonostante la delega non lo prevedesse, di verificare che non fossero cancellati ben 11 lettere che riguardano proprio quello che è l'impianto sanzionatorio in materia di sicurezza alimentare. Quindi ci sono sanzioni amministrative e sanzioni penali, come queste vengono erogate. È una semplice dimenticanza che a febbraio ci si sia dimenticati, ci sia fatta una forzatura di questo tipo, perché di una forzatura si tratta, perché alcuni di questi articoli, il 7, il 10 e il 22, erano stati tenuti, quindi qualcuno ha guardato, non è bastata una penna che ha cancellato soltanto una parte, e invece ne sono stati tolti altri 11. Qualcuno forse ha provato a fare il furbo, a dare un colpo di spugna, chiaramente non si poteva credere che una materia così importante nella sicurezza alimentare rimanesse totalmente priva di sanzioni, però sicuramente qualcuno ha provato a, diciamo, abrogare e fare una sorta di amnistia in materia di sicurezza alimentare. Forse è un caso, ma fortunatamente, almeno in questo caso, forse solo in questo caso, è cambiato il Governo e qualcuno si è reso conto che quel colpo di spugna su tutti questi articoli era eccessivo, perché non si può pensare, come ho già ripetuto, che sia stata una semplice svista andare ad indicare soltanto tre articoli invece che 14, come originariamente prevista, specialmente in una legge che arrivava dall'Europa che non prevedeva nessun tipo di abrogazione per quello che riguardava gli assetti della sicurezza alimentare in materia di sanzioni. Quindi qualcuno si è preso qualche libertà che non doveva e fortunatamente con questa norma andiamo a ripristinare la legalità in questo settore. Però mi sembra strano che nessuno si sia occupato di questo, anche la stampa ha taciuto, perché se noi oggi non approvassimo in questi giorni, non votassimo questo provvedimento ci troveremmo con una sicurezza alimentare sicuramente molto ridotta e questo perché qualcuno ha pensato bene di dare con un colpo di penna la cancellazione di diversi articoli. Ci sarebbe da capire quindi di diverse fattispecie sanzionatorie, se amministrative che penali. Ci sarebbe da capire a chi faceva comodo questo, se era un semplice alleggerimento di tutto il contenzioso, ma non si fa in questo modo, o se c'era qualcuno che aveva interesse a farlo. Voglio leggere brevemente perché magari chi ci segue e chi segue i lavori da fuori di quest'Aula non sa che questo disegno di legge è composto da appena tre articoli e soltanto il primo di fatto va a verificare e reintrodurre, quindi agisce su qualcosa di concreto sulla norma e gli altri sono assolutamente tecnici. Vado a leggere brevemente la relazione tecnica di questo disegno di legge. L'intervento normativo si rende necessario al fine di evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi in natura sanzionatoria sia penali che amministrative, inerenti, e anche qui è un altro problema di questa materia, di assicurezza alimentari, inerenti la legge del 30 aprile 1962, 26 febbraio 1963 e altre che qui non sono elincate nel 1980, del 99 e quant'altro. Ma quello che più riguarda il tema che stiamo trattando è se tratta di un intervento normativo resosi necessario per evitare che molti illeciti compiuti a danno della salute dei consumatori rimangano impuniti per effetto dell'abrogazione sancitta dal decreto legislativo 27 del 2021, quindi del febbraio di quest'anno. Quindi qualcuno ha fatto un decreto legislativo che ha spazzato, almeno ha cercato, e poi per fortuna lo stiamo affermando, di spazzare via tutte queste fattispecie, sia amministrative che penali. disegnò il decreto legislativo 27 del 2021 attuativo del regolamento UE 2017-625, che, dice la redazione tecnica, invece è stato dettato da tutt'altro intento normativo. La disposizione mira a tutelare il rispetto di importanti norme dettate per il benessere della collettività e non è suscettibile di determinare alcun onere per la finanza pubblica, avendo carattere percettivo e ordinamentale, facendo peraltro permanere inalterato il sistema dell'attuale apparato sanzionatorio e del relativo gettito d'entrate per le casse dell'erario. Quindi con questo disegno di legge di conversione andiamo a ripristinare l'intero apparato sanzionatorio. Ma questo non può essere un motivo per dimenticarci quello che è successo. Cioè che il Governo, chi ha agito, ha agito, o i funzionari o qualcun altro, è riuscito a mettere mani su un decreto e nelle stanze segrete, senza neanche che questa notizia di una grossa depenalizzazione finisse sulla stampa nazionale, è riuscito, almeno momentaneamente, a far passare questo. Se qualcuno non se ne fosse accorto e non ci trovassimo qui oggi a convertire questo disegno di legge, dallo scorso 26 di marzo si sarebbe compiuto qualcosa di molto grave, cioè un'amnistia generalizzata, almeno per quello che riguarda la materia penale, su tutti gli illeciti fatti fino a quel momento. Dopo anche un decreto successivo non avrebbe potuto avere effetti retroattivi su tutte le persone che oggi magari hanno un procedimento avviato o un decreto penale pendente, una sentenza in appello. Questo, a mio avviso, è assolutamente gravissimo. È stato taciuto anche da parte di esponenti a maggioranza che hanno parlato prima di me, ma penso che sia il motivo principale per il quale ci sia da discutere e attentamente verificare anche le responsabilità di chi ha non tanto fatto questo disegno di legge, ma di chi ha fatto decreto legislativo del 2 febbraio del 2021. L'altro tema molto importante, anche se a questo punto ritengo in ogni caso secondario, è perché ci troviamo ancora oggi, nel 2021, a dover gestire una materia così importante come quella di sicurezza in materia alimentare, con delle normative del 1962, del 1963, del 1980, del 1999. E se questo Parlamento non debba invece in una materia così importante, fondamentale, perché incide sia sui singoli cittadini e la loro sicurezza, ma anche sulle attività collegate. Ci sono moltissime imprese dell'agroalimentare che devono sottostare a questi precetti, precetti vecchi e disseminati, normative ormai molto datate e non coordinate tra di loro. Se non sarebbe il caso di intervenire anche con forza e creare un testo unico o rivedere l'intera normativa per andare a creare una normativa che sia in qualche modo anche più facile e agile da verificare, da gestire, da controllare e anche per quello che riguarda gli aspetti sanzionatori, da magari un qualche aspetto garantista all'interno, perché oggi ci troviamo di fronte a molte aziende che non sono neanche al corrente di tutte queste piccole, ma sicuramente in alcuni casi importanti, questi precetti contenuti in diverse norme. Quindi l'auspicio è quello che ci sia un intervento normativo perché si vada a chiarire, rendere più fruibile da parte di tutti la norma, sia da parte dei consumatori finali, sia da parte delle forze dell'ordine che devono farla applicare, sia da parte di tutte le imprese che oggi si trovano con una normativa assolutamente frazionata e sparpagliata in diversi testi. Vedo che ci sono alcuni emendamenti presentati che non riguardano fondamentalmente neanche questo disegno di legge, ma riguardano proprio la materia di sicurezza alimentare, però continuare a fare soltanto degli emendamenti che vanno a modificare delle leggi del 1962-63 probabilmente non è la strategia giusta per affrontare un problema e un'opportunità anche come quello che è l'agroalimentare per tutto il nostro Paese. Grazie. Ringrazio il deputato Vinci.